Questo video collage vuole essere un semplice omaggio alla città di Prato attraverso contributi fotografici storici. Non vuole essere in nessun modo strumento politico ma solo documento culturale e nemmeno vuole violare qualsivoglia diritto d'autore. Le fonti documentarie sono citate alla fine del video. Qualora ci fossero mancanze o inesattezze, si prega di farlo presente l'autore al fine di apporre in didascalia le opportune correzioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.